Poi un'altra cosa, questo è più per i business di informazione e per gli infobusiness eccetera, bisogna vendere più prodotti, ovvio scontato lo sanno tutti, sì, io poi guardo ancora adesso degli ottimi operatori di questo mercato, quanta roba vendi? Vendo quattro corsi, benissimo, è fenomenale, quattro corsi, quanto fai? Due milioni all'anno, meraviglia, hai provato a venderne otto? 25 mila al giorno e vengono a Dubai, hai provato a venderne otto? Eh, ma no, ma mi avevi detto più prodotti, sì, quando ne avevi uno, ne hai fatti quattro, adesso non è che non devi avere più prodotti, ti ho detto di smetterla? Hai venduto altra cosa a questi clienti, senza neanche acquisire di più, esporsi di liquidi, qualche database hai? Ho duemila persone, ragazzi la faccio breve, ok, ho duemila clienti, ah, ok, no, arrivano, ah non riesco più ad acquisire nuovi clienti, aspetta, quelli che hai, questi duemila, perché noi convertiamo subito il 10% facendogli una bella offerta, che quindi sono duecento, no? E se gli vendi una roba da mille, abbiamo fatto duecentomila euro, cominciamo da questo, ok, e il corso, poi gli vai a bandola, integrazione, chi ha comprato questo gli fai un upsell, l'hai fatto? Ah, ah, ma più di quattro prodotti, ah, ma io pensavo di averne tanti, e ho capito, ma cosa facciamo? Quelli nuovi li vendi a quelli nuovi, quelli vecchi li hanno già comprati, quindi non li comprano più, allora abbiamo un bocchettone tappato, è vero o no? Eh, salami, salami che non siete altro, eh, devi continuare a lanciare, a fare dei prodottini nuovi, prodotti costosi, non costosi, integrati, ne fate quattro, quattro li vendete a prezzo di due, ma a quei due poi gli vendi la consulenza di quella che già hai, e questo è giro, per fare, io mi occupo ragazzi di monetizzazione estrema, di profitto estremo, non di sopravvivere, sopravvivere siete già in grado di farlo, no? Ah, eh, no, ma big, non c'ho voglia di fare quattro, benissimo, e allora stai tappato a due milioni, cioè dopo un po' hai alzato il prezzo, sono a tappo, perché seguite tutte, poi si può sempre, però, ok? Ah, ma più prodotti, sì, dovete avere un'azienda, non voi, un'azienda che bababam, 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 butta fuori le robe, se no, non può funzionare, eh? Ah, e quindi così? Eh, sì, e quindi così, dovete continuare, chiudere, riaprire, bundle, lancio contro lancio, lancio di chiusura, lancio di apertura, lancio della metà, bonus per i primi, bonus per i secondi, beati gli ultimi che saranno i primi, cioè, perché se no non si riesce a fare niente, no? E le consulenze? E le cose? Grazie a tutti.